È chiaro che dobbiamo sempre trovare dentro di noi o nel nostro percorso delle motivazioni importanti, ma le motivazioni c'erano tutte in questa partita, perché vogliamo provare a continuare in questo periodo molto positivo, sia in campionato, serviva una partita del genere, una vittoria del genere contro una squadra che sta bene, che si doveva salvare, quindi con tutte le difficoltà della partita, ma cominciare bene queste tre settimane, che saranno molto pesanti sul nostro bilancio stagionale, è sicuramente un fattore importante e poi anche per come si è messa, ho tolto qualche minuto, ho fatto giocare a più giocatori, tutti sanno bene, hanno risposto bene, quindi proseguiamo così e adesso tanta concentrazione alla sfida importante e difficile di giovedì sera con la Roma. È sempre questa comunque la nostra intenzione, i nostri principi di gioco, cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori che mettiamo insieme, poi dopo insieme cercare di avere un equilibrio, di avere delle idee, di avere delle posizioni che ci possono dare delle buone soluzioni con e senza palla. A volte c'è riuscito un po' meno con la mancanza di certi giocatori, adesso credo che il livello sia di apprendimento, sia di inserimento, sia di condizioni, di tutta la squadra sia buona, quindi non è così poi determinante o così difficile cambiare un singolo giocatore pur con delle qualità importanti come può essere Teo, come può essere Rafa, come può essere l'Off2Cic oggi e questo è il segnale che tutti i componenti stanno dando grande disponibilità, che stanno crescendo tanto. Però ripeto adesso, insomma, soddisfazione per oggi, però sappiamo che la doppia sfida con la Roma sarà di tutt'altro tipo, saranno 180 minuti molto tirati, quando c'è una qualificazione, un'eliminazione diretta, insomma, sono altri tipi di partiti, quindi dobbiamo prepararci molto bene, recuperare come sempre l'energia, lo faremo domani e poi buttarci con grande attenzione e preparazione a questa partita importante. È cambiato la sua testa, è cambiato che adesso ha fiducia, adesso è positivo, adesso crede in quello che fa, conosce meglio chiaramente quelle che sono le conoscenze della squadra in campo, sa quello che deve fare senza palla, è cresciuto di condizione, è cresciuto in fiducia, è un giocatore di qualità, è un giocatore che può crearsi la superiorità numerica. Sono molto contento per lui perché comunque ha passato un momento, poi dopo dall'esterno sembra tutto bello, sembra tutte cose fiori anche per i ragazzi che sono giovani, che stanno bene, che guadagnano tanti soldi, ma vivono anche di emozioni importanti, di delusioni anche importanti, di pressioni importanti, quindi quando poi un giocatore riesce a superare queste difficoltà va sicuramente a merito di Samu perché ci ha creduto, perché ha lavorato tanto e questo non può che far piacere a me, al club e alla squadra perché siamo sempre pronti ad aiutare il compagno o chiunque, è capitato anche a me di essere in difficoltà e abbiamo sempre avuto, diamo sempre sostegno a tutti, questo è bello. È emozionante, Teo, Olli, vabbè ma stiamo parlando di giocatori che i tifosi hanno saputo conoscere, conoscere, apprezzare per la qualità, per l'impegno, per il senso di appartenenza, sono per tutto, io ho la fortuna di allenare, ripeto, dei giocatori e delle persone di assoluto livello, quindi è bello quando il valore dei tuoi giocatori, il valore non solamente tecnico, ma anche credo morale viene riconosciuto dai tuoi tifosi, quindi è stato bello. Giocare un derby non è una partita normale e quindi sicuramente per la Roma sarà una partita che avranno preparato in modo molto attento, con molta concentrazione e anche con molto dispendio di energia, ma sarà talmente importante la partita di giovedì, talmente importante l'obiettivo per entrambe le squadre, comunque cinque giorni sono tanti che la Roma, qualsiasi risultato uscirà dal derby, sarà pronta per venire qui a fare la migliore partita possibile. Sì, è stato bello, è stata una buona giornata per giocare in San Siro, e credo che abbiamo fatto molta gioia nel gioco e abbiamo fatto un buon tre punti. Sì, ovviamente, Rupes è un giocatore per noi, e se non gioca, lo farà, lo farà, ma abbiamo molti giocatori che possono farlo in questo ruolo, e credo che oggi Policis ha fatto un buon lavoro, e non avevamo problemi con Leccio. Sì, è stato un'importante gioco, i due due matchi per Roma sono molto diversi, da quello che noi stiamo giocando ora contro loro. Sì, credo che con il flow che siamo in, stiamo con il full focus di questo gioco, e spero che possiamo portare la gioia in questo gioco. Sì, credo che abbiamo fatto un buon lavoro,